Purtroppo, con grande dispiacere, ho dovuto rinviare il viaggio in Congo e su Sudan. In effetti, alla mia età non è così semplice partire in missione. Traspare dalle parole di Francesco tutto il ramarico per il viaggio rimandato su Consiglio dei Medici, nei due paesi africani, che porta sempre nel cuore. Ricevendo in Vaticano i padri bianchi riuniti per il capitolo generale, il Papa annuncia una messa per domenica 3 luglio con la comunità congolese di Roma. È il giorno che dovevo celebrare Kinshasa, porteremo Kinshasa a San Pietro e lì celebraremo con tutti i congolesi romani, che sono tanti. Vergoglio, costretto a rinunciare anche alla messa con la processione per la festa del Corpus Domini, giovedì 16 giugno, rinnova l'invito ai missionari d'Africa a vivere la missione come testimonianza. L'apostolo non è un manager, non è un dotto conferenziere, non è un mago dell'informatico, non. L'apostolo è testimone. Preghiera e fraternità sono i cardini di una missione che non ricorre al proselitismo, ricorda il Papa. Se in qualche momento ognuno di voi si trova facendo proselitismo, per favore si fermi, si converte e poi continui.